Salve Night City! C'è Stanley qui con voi! Ci aspetta un'altra giornata nella città dei sogni! Oh, amo questa città! La amo come si può amare una madre che lascia il figlio in orfanotrofio e vent'anni dopo gli chiede una sigaretta per strada! Ogni giorno arrivano centinaia di nuove facce, ma solo metà di questi idioti resisterà a un anno. Metà, se tutto va bene! E perché questa gente viene a NC? Per fare nuovi samurai come Morgan Blackhand e Weyland Boa Boa! Maggiore il rischio più alta la taglia! O almeno così dicono! Ma non puoi giocare tra i professionisti per sempre! Più veloce vivi, più in fretta ti consumi! Se prima non ti becchi un proiettile in testa! Per fortuna non importa da dove vieni, non importa che strada vai! Importa solo il modo in cui arrivi! A Night City! La città dei sogni! La tipa che cerchiamo deve essere in quest'edificio. Sarà pieno dei pendecos che l'hanno rapita. Occhi e orecchie ben aperti, ok? A proposito, ho una cosetta per te. Uno shard di addestramento della Militech. Se vuoi dare una ripassata ai passi di danza. Pronta per qualche tiro al bersaglio virtuale? Militech. Jack, parliamo di tecnologia militare riservata. Dove l'hai preso? Da T-Bug. La nostra amica ha fatto qualche piccola modifica. Perché crede di essere migliore di loro? Ah, dice che non era adatto al suo stile. Capirai quando lo vedi. Beh? Certo, perché no? Iniziamo con l'addestramento base di combattimento. Questa sessione sarà registrata e valutata. Questo corso è studiato per affinare le tue abilità di combattimento e i tuoi riflessi. Quello che imparerai qui ti aiuterà a sopravvivere e a dominare il campo di battaglia. Ti addestrerò all'uso di armi da fuoco, di tattiche furtive e di hacking delle reti nemiche. Perché alla Militec... La criptazione Militec è una vera merda. Ma i discorsetti motivanti ce li hanno proprio nel sangue. Ora... In posizione, verme! Muoversi, muoversi, muoversi! Preparati a... Passiamo a un programma tattico di puntamento. Sai, tanto per riscaldarsi. Sì, sapevo che l'avresti trovato facile. Che dici, aumentiamo un po' la difficoltà? Non male. Ma è più realistico se il bersaglio è arm. Non stare lì in palata, cerca di... Ti hanno colpito. Usa un reanimator per rimetterti in sesto. Va all'area di addestriamento appena... Oh, guarda. Stavolta si è portato dietro i suoi ciumi. Sai cosa fare? очки. Stavolta si ènovi. Stavolta si è portatissimo. Stavolta si è portato. Stavolta si è portato. ogi suono. Pettere, ci avesta si è portato. Non stavolta ero così portato. Assolutamente rigolta le pi Silicon ottimo lavoro sali sulla piattaforma e il prossimo corso è quello di hacking scoprirei che ho cambiato un po la lezione in questo modulo imparerai ad applicare strumenti tecnologici hacker a quello schermo per distrarre la guardia concentrati hacker a quello schermo per distrarre la guardia feccia corporativa tutto stile niente sostanza bene ora eliminalo in silenzio bene è tutto tuo toglilo di mezzo non conviene lasciare tracce del proprio passaggio specie se parliamo di cadaveri raccogli il corpo e nascondilo ok ora prova eliminarlo con stile pronta ad acchierare qualche idiota in tempo reale divertiti ok 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 ecco ok 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 Ora, fai esplodere la granata. Ora, fai esplodere la granata. Ora, fai esplodere la granata. 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 È tempo di un po' di combattimento ravvicinato. Stendilo. Ma fa' attenzione. Sembra tosto. Non preoccuparti. Riprova. Ok, direi che ci siamo. Ora troviamo qualcuno più vicino alla tua classe di peso. Ok. 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 Passiamo alle armi corpo a corpo. Prendi una spada. Bene, adesso fammi vedere cosa hai imparato. Grazie. Bene. Hai già capito come funziona, direi. Sali sulla piattaforma. Buona fortuna, V. Buona fortuna. Allora? Niente male, eh? E ora possiamo tornare agli affari. Grazie. 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 Grazie.